Ecco, chiarimenti su tutto il caos che è successo all'interno della Regmi Rovigo. Oddio, bisogna parlare per ore, ma i tre punti, in maniera molto sintetica, sono che io da quando sono stato eletto presidente, da gennaio del 2018, ho cercato sempre la massima condivisione dei contenuti e del mio operato. E quindi ho coinvolto sempre e spesso e tanto il CDA, appunto perché non fossero le scelte del presidente ma del CDA, uno. Secondo, il mio sostegno alla squadra non è mai mancato, anche quando è stato meno visibile. Terzo, io non sono a conoscenza di nessun complotto contro la Regmi Rovigo. Ecco, il futuro quale sarà? Il futuro, adesso dovremmo convocare l'assemblea di soci e si dovrà eleggere un CDA o un nuovo CDA. Questo è il futuro immediato, cosa che lo statuto prevede che venga convocato senza indugio, quindi non dobbiamo perdere tempo. E la prima cosa che deve essere fatta nel momento in cui c'è ancora l'operatività del CDA è appunto convocare l'assemblea, dato che l'unica persona che poteva farlo ad oggi non l'ha fatto. C'è la possibilità di un ritorno? Non lo so, adesso sarà tutto in discussione, valuteremo. Oggi il mio spirito è no. Magari domani c'è il sole, cambia anche il mio stato d'animo, però oggi è più no che sì. C'è qualcosa che può fare la differenza in questo senso, che magari si aspetta? No, adesso vediamo come l'ha presa la squadra, che ha fatto una conferenza stampa, di cui però non sono aggiornato sui contenuti. Valutiamo un po' questo. Il mio operato è stato un operato che aveva come unico fine quello di dare la massima serenità alla squadra, alla società, e di riportare e di consolidare quello che è il ruolo della società del rugby per la città come un bene comune. E quindi continuerò, se continuerò in questo senso. Grazie mille. Grazie mille.